Gli speed check sono realmente dei deterrenti contro il superamento dei limiti di velocità sulle strade bolzanine, ma soprattutto hanno l'obiettivo di prevenire gli incidenti e garantire la sicurezza e la salute pubblica. Queste le parole pronunciate dal sindaco di Bolzano Luigi Spagnoli nel illustrare assieme al comandante della Polizia Municipale Sergio Ronchetti e all'assessore comunale competente Judith Kofler-Paintner i dati dopo l'avvio del nuovo sistema di rilevamento della velocità in otto punti della città. Eclatanti i dati raccolti dalla Polizia Municipale nella settimana presa campione dal 17 al 23 settembre, ovvero prima dell'installazione dei totem arancioni, e in quella dal 13 al 19 dicembre con gli speed check in funzione. Sull'arginale, ad esempio, la percentuale di infrazione potenzialmente sanzionabile di veicoli che non rispettavano il limite è passata dal 90 al 4%. I vigili ad oggi hanno effettuato 18 servizi di controllo con un transito complessivo di 3.600 veicoli, solo 29 le sanzioni elevate. La velocità massima riscontrata è stata di 74 km all'ora in via Galilei e 72 km all'ora sull'arginale in direzione sud. Si è dunque registrato un considerevole calo della velocità, ciò che voleva l'amministrazione. Sull'arginale la velocità media è calata dai 60 km all'ora a circa 35, quindi un calo decisamente significativo. E un caso clamoroso è anche Corsitalia, dove avevamo assistito nella notte, stando ai rilevamenti, a delle velocità addirittura di 140 km all'ora. Ecco, sopra i 100 km all'ora erano una cinquantina nella settimana di rilevamenti di settembre, non ce n'è più stato nessuno nella settimana di dicembre. Nella settimana di monitoraggio compiuta a settembre, se realmente l'idea fosse stata quella di multare, il Comune sarebbe riuscito ad incassare una somma considerevole. Solo in quella settimana, solo sull'arginale, se avessimo dato la multa a tutti quelli che andavano oltre 50 km all'ora, avremmo incassato più di 10 milioni di euro. Quindi se si vuole fare casa, il Comune lo può fare in tanti modi. Da ricordare che gli speed check, al momento impiegati a Bolzano, sono stati forniti dalla ditta produttrice in prova. Solo in un secondo momento verrà valutato dall'amministrazione se acquistarli, anche se... Adesso abbiamo ancora questi in prestito, li faremo ruotare. Ricordo che un qualsiasi incidente, come diceva il Comandante dei Vigili, costa da solo molto di più di quanto non costi uno speed check. Quello che spende la città di Bolzano in manutenzione strade e in gestione della rete stradale è svariati milioni all'anno, credo che non siano questi mille euro in più o in meno che ci cambia la vita.